buonasera a tutti a 29 eccoci qua mi sono collegata e vediamo facciamo passare pochi minuti per vedere chi chi è con me questa sera intanto buonasera e bentrovati buonasera giorgio oggi è una serata qui siamo a roma ed è una serata molto silenziosa come sono tante queste serate grazie che mi vedi e mi senti bene adesso vediamo che alzo un pochino buonasera ok mi sentite no ok ben arrivati ciao francesca ben trovati un po mi tolgo anche gli occhiali non ci vedo se non vi leggo allora fra pochi minuti iniziamo ho veramente tanta voglia di di ritrovarci e di raccontare e verso la fine diciamo gli ultimi 10 15 minuti mi mandate le vostre domande intanto potete pensare se avete delle domande nel cassetto le tirate fuori e me le fate e spero di di essere più esaustiva e chiara possibile buonasera francesca molte francesche meri franco buonasera angelica buonasera buonasera ana ben trovati allora mi hanno detto aspettare esattamente tre minuti io sarò precisissima vediamo un po che entra qualcun altro intanto spero che voi siate tutti bene che siete accolti nelle vostre case e che state cercando con ognuno di noi di essere più comodo e sereno possibile allora aspetto qualche altro qualche altro minuto aspettiamo un pochino anche perché ci sono tanti amici che mi hanno detto che questa sera saranno con tutti noi con le loro domande quindi intanto preparatevi ad appuntare a scrivere qualsiasi tipo di domanda io accolgo accolgo e cercherò appunto di rispondere a mio meglio buonasera emilia luana buonasera a tutti andrea salve barbara buonasera ok ecco gli amici che si stanno aggiungendo grazie 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 della vostra presenza grazie a tutti della vostra onorevole presenza di questo scambio che questa sera spero di dare al meglio delle mie possibilità e delle mie capacità allora io intanto inizio facendo mi tolgo gli occhiali inizio facendo dei ringraziamenti a questo gruppo focus 3.0 lo ringrazio per la sua accoglienza è un gruppo che si sente che è cresciuto che è nato e che è voluto proprio da gli intenti dagli idee dalle idee dai pensieri dalla volontà dalle azioni corrette dalle azioni non corrette hanno creato questo contenitore dove ognuno di noi è in questo momento però ringrazio anche tutti gli operatori tutte le persone che hanno partecipato prima di me e che parteciperanno domani ringrazio quindi i social e questo incontro nostro virtuale che stiamo avendo e che ci fa ritrovare ci fa conoscere ci fa scegliere oppure no quindi ringrazio questa possibilità che si è creata qui e ora io ho fatto questo piccolo preambolo perché è proprio un modo per entrare nel tema di quello che questa sera io oggi sono qui a parlarvi ed è proprio il tema della creazione tutto quello che noi abbiamo in questo momento è stato dato dalle possibilità di organizzatori ideatori, coordinatori che con le loro energie si sono messi insieme e nel tempo e negli scambi hanno iniziato a creare prima di tutto ci hanno creduto hanno avuto un'idea, un pensiero, uno scambio verbale e dopo di che si sono messi insieme nel fare a volte hanno fatto in un modo, altre volte hanno fatto in un altro modo ecco perché dico questo? perché quando noi affrontiamo quello che io sono venuta qui a portare che sono la acascia poi noi li chiameremo i registri acascici è esattamente questo allora l'uomo che ha necessità inconfutabile di codificare e quindi di dare dei nomi ha dato il nome ai registri per noi i registri vuol dire un tomo, un libro all'interno del quale viene annotato tutto ciò che esiste tutto ciò che si sta creando è creato e ha preso una forma tutto ciò che ogni energia come pensieri, le parole, le azioni di questi organizzatori che hanno creato questo contenitore come tu hai creato i tuoi progetti la tua realtà viene tutto registrato si parla appunto anche che viene iscritto diremo come immagine appunto perché abbiamo sempre bisogno di parole, di immagini per codificare per avere anche noi una maggiore comprensione ogni parola, ogni sentimento, ogni intenzione ecco che tutto questo non è mai disperso il creato è molto ingegnoso e ha fatto sì che tutto questo potesse essere conservato ma perché è il creato stesso che si sta autoconservando questa è una piccola premessa per farti capire per farti capire che quando noi parliamo della relazione con il campo della Akasha stiamo parlando di avere una relazione con il campo delle infinite memorie delle molteplici informazioni che possiamo anche chiamare delle verità quindi è un campo delle potenzialità perché le potenzialità sono dei semi di informazioni dei semi di intenzioni perché ricordatevi che viene tutto conservato tutto registrato per questo registri akashici nelle antiche tradizioni Akasha è stata definita anche come etere però poi nel tempo gli studiosi, i filantropi anche alcuni scienziati che erano vicino a un certo tipo di sensibilità che vertiva verso la spiritualità hanno visto che etere non era scusatemi, esatto quindi noi potremmo andare a definire che non è etere ma è esattamente qualcosa che va oltre l'etere l'etere immagina che siano dove passano appunto tutte le onde le onde anche dei nostri elettrodomestici di internet quindi questo viene inteso come etere mentre qui siamo in uno spazio che è oltre diremo così dell'etere molto spesso anche tradizioni popoli al quale mi sento di appartenere come gli indiani di America hanno parlato di Akasha come la quinta essenza e lì noi la andiamo a ritrovare con questa parola ecco di nuovo le parole, i nomi la quinta essenza anche nella tradizione occidentale dell'alchimia io molto spesso negli anni nell'esperienza personale su di me che ho fatto e che faccio continuamente e che poi ho avuto la possibilità grazie allo scambio con gli altri a poter leggere i registri degli altri a poter scambiare queste informazioni aver esperienziato non solo quindi letto ma fatto anche l'esperienza di questa quinta essenza appunto per gli alchimisti io parlo dell'alchimia occidentale non quella degli alambicchi e delle ampolle ma quella della trasformazione dei propri stati emotivi dei propri stati anche mentali attraverso un lavoro personale di crescita che è un po' quello che quasi tutti chi in un modo e chi in un altro chi in una tradizione o in un'altra ha piacere di fare o vuole fare o sta cercando o sta iniziando a fare come in tanti in questo periodo dunque la quinta essenza è intesa appunto come l'essenza primaria originale dove riscopriamo la nostra vera essenza intanto continuo a vedere le entrate di persone e voglio continuare ben arrivati tutti Lucia ciao grazie per aver preparato le domande io sono sempre qui allora eravamo arrivati appunto a parlare della quinta essenza la quinta essenza appunto sono processi in cui l'alchimia ce lo racconta sia dal punto di vista tecnico scientifico chimico per esempio gli stessi erano degli antichi alchimisti così come anche grandi filosofi allora che cosa succede? succede che avendo fatto un'esperienza personale di che cos'è questa relazione con il campo akashico quindi con questa fonte di conoscenza nell'interno del quale noi possiamo attingere a conoscere tutte le memorie che fanno parte della nostra storia d'anima personale oppure della storia della nostra del nostro pianeta del cosmo o della storia lineare dell'uomo sono degli strumenti che sono dati in dotazione ad ognuno di noi non c'è nessuna separazione dunque ricapitolando i gisti akashici sono a livello energetico chiaramente essendo noi esseri energetici esseri che emettono vibrazioni onde e frequenze vengono racchiuse all'interno di questo spazio che non è uno spazio di questo luogo che non è un luogo quindi all'interno di questo piano di coscienza oltre a poter ognuno di noi connettersi questo è la parola che viene usata a me piace molto usare la parola relazione cioè mettersi in relazione con il sistema akashico o anche possiamo parlare di campo akashico ci dà la possibilità non solo di conoscere per quale motivo io posso avere un limite un blocco una difficoltà che in questo momento sta riguardando la mia esistenza la mia vita ma posso anche fare domande per le quali ho necessità in quanto essere umano e lo dico con la maiuscola in questo periodo sono venuta a chiedere su questa mia nuova e ulteriore esistenza come per esempio per quale motivo esiste l'incarnazione o domande più semplici che cos'è la vita che cos'è la morte o domande come per quale motivo c'è un conflitto su questo pianeta tra i stessi fratelli e io parlo di sangue ecco domande possono esserne fatte a tante quindi da domande più semplici più orizzontali diremo a domande più verticali più atte a livelli di conoscenza differenti né superiori né inferiori ma semplicemente differenti perché ho iniziato a parlare di creazione perché come vedete poi sono andata a parlare di alchimia ossia l'alchimia non è altro che un processo di trasformazione dello stato della materia gli antichi alchimisti parlavano dei tre stati del piombo dell'argento e dell'oro e se tu pensi e associ questi stati ai tuoi stati fisici emotivi e mentali li puoi anche associare ai tuoi stati dell'anima l'anima che ancora è attaccata a certe convinzioni della materia l'anima che sta facendo il passaggio quella di mezzo come nella metafisica ci viene spiegato o l'anima superiore che è l'anima che è connessa alle sfere più alte e così tutto il nostro grande sistema sia fisico che non fisico tutti i nostri corpi hanno vari livelli in cui inizia a processare la materia l'informazione come i chakra bassi i primi tre che sono collegati ai chakra altri che sono i chakra superiori quelli chiamati più sottili fino ad arrivare ai chakra invisibili tutto questo è il nostro essere che è un essere tecnologicamente meraviglioso un essere che ha una tecnologia spirituale sopraffine ed è questa tecnologia che oggi in questi tempi ci viene richiamata veniamo chiamati ad avere una maggiore attenzione e a svilupparla allenarla ad aumentare le nostre abilità ed è proprio per questo che in questi ultimi anni i registri akashici o il campo dell'akasha sta avendo di nuovo altra luce altra attenzione di nuovo sta avendo un'attenzione perché l'akasha se ne è sempre parlato dagli albori dal libro della vita dove viene citato nella bibbia ai rishi ne parlano gli indiani d'america come l'elemento di tutti gli elementi quindi anche loro parlano del quinto elemento oltre l'aria l'acqua la terra il fuoco il quinto elemento ecco perché perché in questo momento e oggi più che mai in questo grandissimo periodo momento epocale planetario ce ne stiamo rendendo conto ognuno con i suoi strumenti ognuno con le sue possibilità è arrivato a questo momento io credo che questo sia un momento che ho anche scritto dei pensieri nel mio quaderno ed è un momento in cui è molto importante stare su di noi perché è uno dei più grandi periodi sacri di questa umanità il periodo sacro una grande epoca un momento sacro è quando tutta l'umanità in un momento di grande un'italità si incontra si sente si ascolta e tutti insieme stanno percorrendo lo stesso movimento lo stesso passaggio ecco che diventa sacro quando tante persone si riuniscono insieme è come quando insieme facciamo le meditazioni quando insieme ci incontriamo anche due persone facciamo una preghiera ecco quelli sono dei momenti che si aprono e sono dei tempi dei momenti sacri ecco perché in questi ultimi tempi siamo stati allenati ci hanno aiutato ci sostengono ma chi e ve lo dico subito quando si parla dei registri agascici si parla di un piano di coscienza di un piano in cui ci sono delle frequenze delle vibrazioni superiori elevate all'interno e continuiamo a dire all'interno ma in questo spazio transitano esistono delle coscienze che hanno la stessa frequenza di questo piano vibrazionale molto elevato che è un piano di luce un piano di puro spirito di coscienza è il piano della creazione dove tutto viene conservato dalle idee pensieri alle azioni ai sentimenti quello è un luogo dove tutto è creato e si sta creando bene lì esistono la presenza onorevole dei maestri delle guide spirituali chiamati anche esseri di luce nella tradizione metafisica voi potete trovare la definizione di quello che è maestro ma anche tutti i nomi e le vite per chi ha fatto una vita incarnata come maestro asceso come per esempio quello che forse la maggior parte di voi può ricordare è il maestro Saint Germain che è vissuto d'epoca in epoca e ha avuto il compito come grande anima evoluta di muovere delle coscienze e di trovarsi in momenti strategici della storia umana e così tanti altri maestri Moira e ci sono anche esseri che sono esseri che noi chiamiamo di luce i fratelli delle stelle fratelli appunto della nostra meravigliosa galassia e anche oltre tutti esseri che sono e seguono la nostra evoluzione su questo piano pianeta perché questo è un piano in cui noi ora ci troviamo di coscienza chiamato un piano tridimensionale è un pianeta quindi che si esprime e che ha necessità di esprimersi in una forma tridimensionale ossia lo spirito della creazione il supremo la madre divina come voi lo volete chiamare lo chiamerò questa sera la suprema la creazione ha necessità diremo di esprimersi attraverso la materia manifestando questo meraviglioso pianeta questo organismo vivente che porta anche anche lui la sua memoria la sua storia le sue emozioni le sue parole e anche questo viene conservato nei registri akashici del pianeta terra quindi come vedete ogni essere vivente non solo l'uomo ma anche la stessa gaia lo stesso organismo che è la terra porta con sé una memoria molto più antica della presenza dell'uomo dunque questo è un pochino non so se sono andata un po' troppo veloce ma insomma ho cercato di spargere alcune informazioni quando noi ci mettiamo in contatto in relazione con il nostro registro abbiamo la possibilità grazie a ciò che ci viene fatto vedere sentire anche a livello di percezione fisica perché poi cambierà da persona a persona la relazione che hai con il campo della tua akasha hai la possibilità di lavorare su quegli aspetti di scioglierli di trasmutarli di trasformarli ecco perché io parlo di alchimia e parlo proprio di alchimia dal cuore perché la nostra tecnologia spirituale ecco perché facevo l'elenco prima degli strati dell'anima e di chakra come tecnologia spirituale noi riusciamo e quindi è dato a tutti di poterci mettere in relazione sintonizzarsi con quello stato di coscienza grazie alla nostra connessione ma anche grazie a tutti i nostri chakra e quelli che sono chiaramente chakra in cui noi lavoriamo facciamo sempre un lavoro di allineamento ma quelli diciamo tecnologicamente aratti sono proprio il chakra del cuore il settimo chakra e l'ottavo chakra che è l'ottavo chakra è extracorporeo ed è il chakra chiamato dell'anima la stella dell'anima alcuni lo chiamano anche il chakra degli artisti ecco attraverso questi punti energetici queste sfere che rodeano in modo corretto e funzionale nel momento in cui ci connettiamo ci mettiamo in ricezione di quello che arriva dal campo e il campo non è solo su il campo è ovunque pervade come dicono gli indiani d'america ogni cosa è pervadente dunque è proprio un movimento del nostro corpo fisico ed energetico che ci permette grazie alla nostra intenzione di poterci relazionare con il campo allora io vedo se ci sono delle domande e guardo anche l'ora perché se no io mi perdo e quindi se ci sono delle domande buonasera e grazie Enrico e non vedo domande diciamo che lascerò 15 minuti verso la fine quindi mi guarderò e continuo a parlarvi voglio parlarvi di creazione allora noi siamo qua e questo è stato creato da qualcuno io ho messo un'intenzione e questo evento è stato realizzato anche tu anche voi nella vostra vita per qualsiasi cosa da come acquistare una casa o avere una casa un tipo di lavoro ecco ognuno di voi nel proprio intimo cerca al meglio delle sue possibilità di creare la sua realtà quindi tutto ciò che tu hai nel tuo ambiente lo hai creato tu ossia hai fatto sì che potesse più o meno accadere sospendiamo il giudizio pensiamo soltanto a questo che ogni atto che io scelgo di fare lo metto nel campo informo il campo e il campo lavorerà anche per me è chiaro che ci vuole il mio impegno vi ricordate focus è stato creato da un'idea poi ci sono stati dei pensieri e poi c'è stata una volontà e la volontà è esattamente il motore portante della creazione e dopodiché c'è stato il fare l'impegno la direzione molto diverso dal desiderio ma pensi dalla direzione me lo spiego dopo perché prima voglio approfondire la creazione nel momento in cui io faccio un'esperienza o chiedo si dice ricevere una lettura dei propri registri acascidi ma perché ma che serve ma che me ne frega di sapere chi ero io e hai ragione ma che ti importa la cosa che importa sei tu ora oggi la tua vita terrena perché tra la terra e lo spirito non c'è una separazione sono intrinseche sono nella stessa cosa una per me all'altra è lo spirito che forma scusatemi è lo spirito che crea la forma dunque tu sei esattamente questo e nel momento in cui tu vai a fare a ricevere una lettura scegliendo delle domande perché le risposte ci sono tutte le risposte nel campo accendi la televisione e ti arriva la risposta che chiedevi da tanto apri un libro e dici guarda proprio la risposta giusta perché la tua perché la coscienza nel momento in cui tu richiedi e inneschi si muove e ti risponde perché tutto e tutti gli esseri invisibili tutto ciò che è nell'invisibile ci sostiene continuamente e dunque la tua creazione è esattamente il momento in cui vai ad accettare la reazione con le tue guide che ti danno indicazioni e segui ciò che ti viene detto perché ciò che ti viene detto è sempre e comunque per il tuo massimo bene di linguaggio che utilizzeranno anche se il lettore sarà lo stesso e passeranno 10.000 persone di fronte a questo lettore beh il vocabolario il modo di esprimersi le metafore le immagini che manderanno saranno sempre diverse ossia saranno per ognuno di voi ossia per ognuno che chiede in quel momento la lettura io sto parlando di creazione anche per un altro motivo e questo per me è un contesto molto importante perché in questo momento ciò che ci viene chiesto dall'alto ma anche dal basso perché il basso ha la stessa dignità e il basso sapete che cosa voglio intendere cioè nella terra nella praticità nella mia personalità è quello di stare oggi più su di me di stare dentro di me e di andare a condizionare creare il bioambiente interno e di conseguenza l'ambiente esterno e quindi da tutte le parti dalle parti della personalità dalle parti dell'invisibile e del visibile quello che ci viene chiesto è quello di creare ecco perché io ho fatto questi inserti l'ho l'ho messo all'interno di questo tema che oggi voglio portare perché una cosa che ci è data è il tempo in questo momento e vi do una piccola cosa che farò domani nel mio canale io sto facendo delle piccole live con degli esercizi creativi sono degli esercizi sui quattro elementi perché si dice anche che acascia come dicevo prima è il quinto elemento ma è anche inteso come l'elemento di tutti gli elementi quindi acqua terra fuoco aria e acas acas e domani sarà la settimana che scatterà del fuoco e abbiamo iniziato la scorsa settimana con l'acqua quindi stiamo facendo tutti gli esercizi sugli elementi sono esercizi veramente semplici e piccolini allora per chi non è in quel gruppo io ve le voglio dire oggi ed è un piccolo esercizio che oggi mi è proprio arrivato concreto ed è questo immaginate in questi giorni e create su un foglio di carta un pannello dei quadri come volete il mondo in cui voi vorreste vivere che tipo di mondo disegnatelo prendete dei tagli di giornale li tagliate fate un patch fate ecco è questo ciò che le guide gli esseri ci stanno indicando siate leggeri siate nella gioia create il vostro pianeta perché quello che io farò domani e che dirò a tutte le persone che mi ascoltano e te lo dico anche a te questa sera e poi magari lo posti sulla tua vacheca di facebook il tuo quadretto del mondo che tu vuoi lo puoi anche scrivere se non sei avvezzo alle immagini però ricordati che le immagini sono quelle più potenti perché noi esseri umani funzioniamo per immagini perché l'immagine è la sintesi di tanta conoscenza quindi questo è una cosa che volevo condividere per questo che mi batteva in testa di iniziare con la creazione e quindi creiamo e questo farà sì che in qualche maglia noi possiamo entrare nella coscienza collettiva parlavamo di immagini molto spesso dal piano quando si entra in relazione con il piano akashico si parla di visioni di immagini ecco le immagini sono quelle che vanno direttamente a lavorare all'interno del chakra del cuore come anche le parole quando sei in relazione perché quando tu ascolti non con le orecchie fisiche ma con le orecchie di quarta quinta e sesta dimensione diremo così tu vai ad ascoltare dei messaggi dettati senza giudizio di grande compassione che sarebbe amore incondizionato esperimenti dentro il tuo corpo fisico ricordi chakra perché proprio ti passano nel corpo senti proprio quello che passa e succede anche se qualcuno li legge a te quindi non preoccuparti perché non è dato a pochi nessuno è speciale siamo tutti degli esseri umani degli esseri divinamente umani c'è chi ha iniziato prima la ricerca della verità chi dopo ma tanto c'è una gara e questa è un'altra illusione che dobbiamo togliere vado a vedere se ci sono domande e vado a vedere l'orario perché io mi perdo ok ciao allora Sara dice la direzione giusta deve essere in sintonia con le memorie di informazioni della propria anima vado vado avanti vado avanti poi rispondo una domanda però voglio dire delle cose che mi hai dato uno spunto grazie Rossana grazie del complimento ci tengo che sia chiara Sara a volte anche le anime spiritualmente evolute trovano resistenze date ai limiti della dimensione materica quindi sarebbe bello scoprire grazie al tuo aiuto questo 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 Marika sono abbastanza regiona della materia e mi interessa molto capire come accedere personalmente ai miei registri va bene prendo Sara allora la direzione giusta deve essere in sintonia con le memorie ed informazioni della propria anima ok Sara diciamo che allora la direzione giusta già sapere di stare in una direzione ho scritto una cosa che te la riporto Sara noi esseri umani molto spesso almeno due volte nell'arco di una vita un paio di volte l'abbiamo fatto ci siamo chiesti ma chi sono che voglio ma perché sono qui queste sono le domande almeno un paio di volte nella vita diciamo che tocca a tutti e quindi quando ho scritto questa frase che mi è venuta ho detto caspita siamo proprio disorientati sono poi le domande che arrivano quando qualcuno si porge per conoscere determinate memorie a quale dare una spiegazione e dare anche una svolta un'evoluzione una crescita e quindi siamo esseri molto disorientati perché in Prismes non sappiamo chi siamo e dove siamo giustamente perché siamo degli esseri spirituali che stanno facendo un'esperienza di materia sta facendo un'esperienza con un abito che si chiama incarnazione che oggi si chiama Sara domani si chiama Francesco e fra duemila anni si chiamerà in un altro modo quindi io comprendo l'anima che sta facendo questo viaggio nelle epoche e ha la pacità e la possibilità di dimenticare di epoca in epoca proprio per riprendere l'evoluzione perché ricordando avrebbe delle difficoltà dico questo perché quindi la direzione non sempre è facile saperla e anche quando tu credi o pensi o senti non ti fare domande prendi la direzione diciamo che io personalmente ho scoperto un metodo che è di una semplicità imbarazzante ed è questo quando quando tu sei nella tua anima e personalità giusta direzione tu senti gioia tu senti allegria senti le farfalle al petto al solo pensiero ecco questa è una cartina torna sole che è infallibile è la matematica della vita è una delle delle cose che mi sono appuntate poi chiaramente noi siamo ridondanti reiteriamo dimentichiamo facciamo anche cose che in realtà non ci danno tutta questa gioia però diciamo che tendenzialmente ci stiamo direttando verso proprio quelle scelte che ci danno la direzione quindi ho spiegato un attimo che cos'è per me la direzione quindi la scelta giusta e appropriata e consapevole e quindi sei realmente nel tuo libero arbitrio essere in sintonia con le memorie informazioni della propria anima no dipende che l'anima ha tantissime memorie informazioni tu pensa appunto Sara di essere passata in epoche epoche e di aver avuto tante informazioni e tante memorie ogni informazione ogni memoria ogni tua caratteristica la personalità che ti era stata data in quell'esistenza è una personalità che si discosta da un'altra perché aveva bisogno di fare quell'esperienza in quell'epoca in quel corpo con quel tipo di compito che ti è ridata in quel momento ma in quel momento tu devi anche pensare a livello lineare ecco attiviamo questa logica funzionale viene chiamata intelligenza funzionale che è un'altra matematica della vita cioè tu immagina quando vivevi e facciamo conto che eri una donna nobile ecco una donna facciamo conto di alto ramo nel medioevo ma com'era la tua vita in quanto donna culturalmente socialmente non potevate leggere non si poteva scrivere non potevamo non potevate non potevamo non avevamo l'anima e vabbè quello quindi eravamo merce di scambio eravamo un prodotto c'era dunque una cultura patricentrica dunque tu che informazioni in memoria hai preso da là che cosa ti è rimasto dunque dobbiamo invece dire che non tutto quindi viene deve essere nella direzione probabilmente Sara in questo momento della tua esistenza ci sono delle direzioni che risuonano e che sono funzionali e performanti per la tua vita più su certe memorie che su altre perché tu sei un grande registratore di memoria perché tu stessa sei un conservatore anima di memoria e quindi ecco che ritorniamo alla parola acascia vado avanti a quello che invece sempre Sara le anime spiritualmente evolute trovano resistenze date ai limiti della dimensione materica quindi sarebbe bello scoprire grazie al tuo aiuto questo punto allora a me quando mi parlano di spiritualmente evolute io non posso non evitare che pensare grandi maestri chiaramente ognuno di noi ha delle attrazioni ha delle risonanze maggiore per dei maestri anziché altri riconoscendone tutti il loro valore chiaramente però a questa tua domanda se io penso ai maestri che sono arrivati nella mia vita i maestri intesi persone fisiche che hanno vissuto su questo pianeta che sono diventati sono dei grandi letterati dei grandi filosofi filantropi dei grandi pacifisti e degli spiritualisti mi viene da pensare a Mer Mirra Alfassa Sri Aurobindo che sono due esseri che si incontrano come fiamme gemelle e qui c'è da raccontare anche l'incontro tra le fiamme gemelle realmente che cos'è che hanno fatto dei percorsi iniziatici già da molto giovani che hanno percorso tante esperienze e che la materia l'hanno sublimata dunque quando tu mi scrivi e io se ti leggo correttamente mi parli di anime spiritualmente evolute non hanno resistenze nella materia questo è il mio sentire hanno tecnologicamente proprio perché sono avanzati sublimato la materia vuol dire che non l'hanno superata la trasformano in continuazione la materia non ha più una non sono in sudditanza con la materia loro sono sopra perché hanno compreso che la materia non è altro che spirito condensato non sono altro che fotoni condensati che si muovono a frequenza diversa riescono attraverso perché tu mi parli spiritualmente evoluta allora io te lo traduco vedi se questa visione ti aiuta tecnologicamente avanzati spiritualmente quindi hanno una tecnologia interiore la loro scienza interiore è avanzata ma non perché sono hanno più capacità di noi ma perché sono stati in attenzione e hanno molto lavorato l'aspetto fisico e non fisico mentale e supermentale quindi per questo motivo sono non hanno queste resistenze non hanno problemi con la materia allora allora Monica ben arrivata altra domanda sono abbastanza di giovane della materia e mi interessa molto capire come si accede personalmente ai tuoi registri mi piacerebbe sapere come i registri possono scusatemi leggo piano mi piacerebbe sapere come i registri akashici possono essere utili concretamente per superare un blocco o un problema pratico o relazionare la vita le slavie benazie Sara volevo dire la direzione in sintonia con la propria missione e compito Sara ti ho risposto per i registri akashici di come connettersi e mettersi in relazione con il proprio campo che è un campo di uno stato di coscienza allora i modi esistono a volte può accadere naturalmente e come può accadere naturalmente attraverso delle meditazioni molto profonde le meditazioni non ci sono delle meditazioni prelibate anziché altre ma bensì meditazioni nelle quali tu scendi in uno stato di profonda grazia uno stato di profonda concentrazione di annullamento un lavoro molto buono con il corpo che hai proprio lasciato andare le tensioni ti sei staccata e quindi dalla parte fisica è centrata all'interno di te può succedere con le meditazioni guidate di passana la contemplazione per esempio il semplice silenzio è magnifico è magnifico per esempio quindi può accadere il transito può essere una relazione di pochi minuti come per esempio avere delle immagini delle visioni perché in realtà tu cosa stai facendo attraverso questa meditazione stai aprendo i tuoi ricettori i tuoi ricettori che sono veramente tanti perché tu non hai solo un corpo fisico hai anche tanti altri scusatemi il gatto Gabriele mi ha fatto cadere tutto allora scusatemi i tuoi ricettori sono ricettori come immagina i tuoi sensi i tuoi cinque sensi del tuo corpo fisico ma i tuoi sensi nel tuo corpo fisico sono anche nel corpo emotivo i sensi i tuoi cinque sensi e anche di più sono anche nel tuo corpo mentale e nel tuo corpo spirituale e così potremo parlare no? io adesso ho fatto una grande divisione una divisione sommaria però ecco quello che noi possiamo dire è che noi abbiamo tantissimi sensi quando si dice io non sto sentendo con l'orecchio fisico ma con l'orecchio della della chiara udienza oppure sto ascoltando telepaticamente il messaggio che mi arriva io sto attingendo a quelli che sono i miei corpi i miei sensi nei corpi sottili che sono chiaramente collegati ai tuoi chakra perché i chakra sono nel corpo fisico e anche nei corpi sottili perché sono loro che emanano e irradiano il campo dei chakra campo dei tuoi i tuoi potremmo dire che sono un po' la stessa cosa anzi immagino come la stessa cosa quindi può succederti questo te l'ho spiegato anche un pochino tecnicamente ora te lo spiego anche in un altro modo puoi anche fare dei corsi di attivazione ecco Gabriele l'avete visto Gabriele scusate dei corsi di attivazione che sono come nelle attivazioni che si ricevono per esempio per fare dei trattamenti reiki si riceve un lavoro energetico fisico con un operatore che ti dà la possibilità o meglio ti aiuta io dico sempre che quando io faccio l'attivazione reiki si dà un permesso ma poi il lavoro chiaramente è nelle mani di ognuno di voi ma comunque ti dà la possibilità oltre la parte della spiegazione cognitiva io parlo dal punto di vista energetico perché tu mi dici come si fa ecco si fa che può accadere anche attraverso delle attivazioni e attraverso delle attivazioni hai la possibilità di avere una maggiore apertura perché vieni energeticamente proprio dal primo canale attivato o anche sintonizzato nel senso che è come se venisse presa la tua antenna e messa esattamente sotto la frequenza che dovresti andare a ricevere questo è la risposta allora l'altra invece domanda concretamente possono essere Anna utili nel momento in cui quando noi diciamo facciamo una lettura dei registri agascici significa porre delle domande delle domande specifiche chiare in merito a quale è il tuo problema della vita pratica il tuo blocco molto spesso la domanda è per quale motivo non mi entrano i soldi per esempio il motivo per cui non entrano i soldi a te adesso faccio un esempio non è lo stesso motivo o quello che sta accadendo energeticamente il movimento invisibile sottile che noi non abbiamo imparato e non siamo educati e non abbiamo la cultura di leggere i nostri movimenti energetici quello che accade vedere la realtà che noi stiamo producendo dentro di noi le guide ci danno delle informazioni ci dicono esattamente quello che stiamo pensando perché lo stiamo pensando e che cosa stiamo facendo e che cosa ci consigliano di fare non quello che non devi fare che è molto diverso quindi il messaggio viene dato essendo noi le chiamiamo guide danno una guida un consiglio un consiglio che a volte può essere espresso poeticamente ma dentro la poesia c'è la pratica c'è la concretezza quindi queste sono le indicazioni a volte può accadere che facendo e ponendo la domanda attraverso questo scambio perché quando tu fai la lettura vengono si dice aperti i tuoi registri attraverso una invocazione sacra quindi è come se allungassero aprissero una finestra anche a te e nello stesso momento non importa dove sei se è nella presenza o a distanza ricevi quella frequenza quindi la parte del lettore è la parte cognitiva quindi la parte della espressione dell'invisibile che si sta manifestando nel lettore te lo sta portando te lo sta proprio portando dall'altra parte tu stai ricevendo perché viene fatta un'invocazione con il tuo nome e cognome quindi vengono chiamate le tue guide vengono alla tua presenza vengono arrivano anche all'interno di te tant'è che molto spesso e questo è il sintomo altra matematica dell'esistenza si piange ci vengono date delle informazioni ma più che informazioni delle parole vengono dette che fanno sì che il cuore si apre e la cosa più bella ecco l'acqua l'elemento meraviglioso fluiamo in un grande pianto un pianto di gioia un pianto di risonanza di riconoscimento ecco lì c'è inizia ad esserci liberazione io sto molto attenta a parlare di guarigione perché anche su questo io ho fatto la mia esperienza in questi anni io non credo che qualcuno possa guarire qualcun altro io credo che qualcuno altro possa sostenerti possa facilitarti possa aiutarti quindi alla guarigione le guide i maestri ci danno messaggi di luce ci danno messaggi di energeticamente di una vibrazione molto elevata le parole che noi riceviamo che ascoltiamo sentiamo venire da una coscienza una profondità che va oltre senti proprio che dall'altra parte del video della persona stessa che tu stai dell'altro essere umano che stai incontrando che fa da ponte c'è qualcosa di più e questo qualcosa di più tu lo senti proprio vibrare all'interno di te e a secondo dei tuoi problemi in quel momento anche delle domande che tu non poni ma che stai avendo delle difficoltà può accadere che si scioglie ma sai perché può accadere? Perché tu sei pronto perché tu lo hai chiesto perché tu lo vuoi ricordate la volontà di prima la volontà e quindi in quel caso io sono un semplice messaggero che mi faccio neutra mi faccio vuoto e porto il mio vuoto per passarti il messaggio per darti la la risoluzione io non te la do chiaramente mi faccio contenitore allora vediamo se ciò che vuole fare allora Antonella io ho chiesto ad una persona di vedere chi ero nelle vite precedenti attraverso la lettura dei registri e devo dire che mi risuona tutto ciò che mi ha detto tu cosa ne pensi di chi fa letture per conto di altri penso bene anch'io faccio letture per gli altri per conto di altri forse volevi dire per altri sì se io penso che ognuno deve fare quello che si sente tanto arriva che ti deve arrivare arriva se devono arrivare quindi io io penso bene vuole dire Alberto Sara Moscati chi sono le fiamme gemelle e i loro incontri si incarnano sempre come uomo e donna possono fare patti allora Sara vedo un attimo l'orario perché è 27 però ti rispondo un attimo vado giù ciao grazie Stefano Gabriele mi ha aperto la porta Simone buonasera Luana ben arrivata grazie Alberto allora sì Sara ti rispondo in pochi minuti perché stiamo andando in chiusura cercherò di darti una risposta base va bene poi sta alla tua libera ricerca alla tua curiosità e puoi trovare informazioni online e ci sono veramente tante di ogni genere ci sono tante mistificazioni e allora io quello che dico a te e che ho detto a me e che dico a tutti voi bene ricercatori fate ricerche leggete ogni cosa guardate però state in attenzione di come lo fate scegliete di ascoltare con altre orecchie e non vi mangiate di tutto perché noi mangiamo guardando e leggendo non ci nutriamo di tutto un conto è leggere poesie tutto il giorno un conto è leggere tutto il giorno strafalcioni brutte parole prese in giro ci dà anche un'atmosfera interna e delle immagini diverse quello che leggiamo perché ti dico questo perché adesso ti darò una risposta base e tu dovrai cercare e vedere se quello che io ti ho detto ti risuona come verità oppure no però continua a ricercare e quando troverai uno scritto o qualcuno che dice qualcosa renditi conto se è il tuo ego che ha bisogno di credere a qualcosa o se senti profondamente qua nel cuore nel tuo chakra del cuore se ti risuona e usi l'alchimia del tuo cuore che trasforma che ascolta le fiamme sono incontri molto potenti sono rari le fiamme è l'immagine che te lo dà la fiamma brucia solitamente sono esseri come diceva Sara prima spiritualmente molto evoluti dunque hanno delle capacità dei modi di vedere sentire e agire nell'esistenza molto avanzati quando io dico avanzati non vuol dire che li evitano dal pavimento ma bensì significa che hanno un processo mentale e una capacità di resilienza di tutto lo scibile hanno una capacità di trasmutazione di ogni evento e non hanno nessun problema o meglio attraversano l'oscurità in un modo molto più capace della maggior parte di noi perché la accettano la integrano questa oscurità questa grande sorella l'oscurità sanno che è benzina e ha una funzione per l'esistenza e la accettano e la attraversano quindi perdono anche poco tempo non si lamentano hanno una tecnologia per cui questa cosa non la fanno metto un po' di ironia le fiamme gemelle quando si incontrano sono della stessa essenza ora ti faccio un altro esempio ti parlerò del grande maestro Gesù così si chiama sulla madre terra e della grande maestra Maria Maddalena loro sono fiamme gemelle allora se tu pensi a loro due potrai farti tutti i seguenti paragoni e pensieri vediamo se ci sono altre domande si incarnano sempre come uomo e donna solitamente sono la metà della stessa essenza quindi per esprimere al meglio il proprio compito sì dovrebbero essere così però probabilmente la verità assoluta io non ce l'ho adesso però posso chiedere però ho chiesto delle fiamme gemelle per questo cioè posso chiedere oltre a aver letto ma non ho mai trovato niente che mi risonasse a quel punto ho consultato i registri cosmici la coscienza superiore e ho ricevuto queste informazioni quindi io ti riporto queste informazioni che ho ricevuto e che mi hanno risonato perché le ho accettate appunto e patti carnici sì cioè nel senso si sono come dire riconosciuti i dati appuntamento sicuramente vivere insieme con la propria fiamma è un compito adesso farò la battuta è ardente come dire proprio perché hanno dei compiti molto molto sacri e quindi ripetendo che cos'è sacro è umanitario planetario tutto ciò che riguarda la grande coscienza dell'umanità allora siamo qua io confermo tutto ciò che lei sa grazie Mariana grazie eh sì sì eh siamo tutti nello stesso flusso buonasera Maria buonasera a tutti allora come io devo trovare questa fiamma gemella ah Alina allora io non ho parlato di fiamma gemella ma di eh scusami allora Alina la fiamma gemella l'ho parlata l'ho spiegata forse tu arrivi adesso e mi scrivi questa domanda allora come tu puoi trovarla io adesso non non so darti una risposta eh perché questa era un incontro per raccontarvi eh eh ritrovarci conoscerci o lasciarci eh e quindi non sono domande personali solitamente io eh in diretta live che non sono molto avveccia ma sto imparando e sto accettando infatti nel mio gruppo eh di facebook faccio appunto questi piccoli esercizi ma anche lì io non raccolgo domande personali perché non è eh un posto è una sede adeguata io credo nella sacralità dell'incontro qualsiasi esso sia se si di persona o a distanza questo poco importa perché insieme noi ci troviamo e facciamo un lavoro importante non solo quando troverai la tua fiamma o quando eh riuscirai a trovare un lavoro o altro insomma è importante lo scambio e eh il contatto proprio con le tue guide quindi qui non io non sono non sono adatta per fare queste cose però se vuoi puoi trovare altri operatori che ti possono dare queste informazioni online le letture certamente esistono si possono fare a distanza però sono personali private individuali ecco questo volevo dire allora visto che noi ci siamo trovati ritrovati lasciati abbracciati noi adesso ci lasciamo io vi ricordo mi raccomando postatevelo anche sul mio facebook io mi chiamo Cristina Vedetta c'è la mia pagina Cristina Vedetta e mi postate che cosa mi postate tutti i vostri capolavori tutti i capolavori che avete fatto sulla creazione del vostro pianeta ideale vi prego del vostro pianeta ideale facciamo questo creiamo questo virus di questi tablo di queste tavole dove mettiamo la creazione metteteci due giorni un anno un anno no mettete entro questi giorni di stare su di noi ecco io lo chiamo colora virus la creazione virus facciamo questo e poi fate una foto e me la mandate sul mio facebook e così vedo tutti i vostri mondi e poi mi metto il mio allora io da domani inizio la settimana del fuoco il fuoco sapete che è il movimento principale è quello che non si inquina che non può essere condizionato a nessun altro elemento e quindi è la creazione dunque da domani se vi va io sapete dove vi potete trovare e vi diamo una buonissima serata e vi ringrazio della vostra presenza Gabriele continua a passare in continuazione saluti da me e spero di il resto buona vita a tutti e viva e viva e viva questa divina umanità grazie grazie a tutti grazie a tutti